E' arrivato il momento di svappare, svappo me! Cervinara purtroppo perde Befi per un ennesimo infortunio, però acquista Maella che è un giocatore alla pari di Befi, di grosse esperienze e soprattutto di grosse qualità. La storia dice che io con Befi ho un rapporto diverso da un comune rapporto tra giocatore e allenatore, quindi per me è stata una botta non indifferente come lo è stato per tutto il gruppo, perché Alessio anche quando non gioca è importante per questo spogliatoio, è un ragazzo di una grande personalità e quindi la perdita di Alessio è qualcosa che non è sostituibile un giocatore come Alessio a prescindere dai valori tecnici. La scelta di Maella è dovuta a un fatto tecnico perché non avendo un centroavanti di ruolo noi lo abbiamo aspettato e al mercato di gennaio non avevamo pensato a un centroavanti proprio perché aspettavamo lui, perché per noi lui era, ripeto, insostituibile. A questo punto del campionato, avendo lui deciso di fare una cura particolare, magari operarsi addirittura, a quel punto lì si è pensato di sostituirlo e credo l'abbiamo fatto in maniera degna del giocatore che è Alessio. Mister, domani si va a Sant'Omaso, primo derby della provincia di Avellino, un incontro molto duro anche perché l'altra squadra si deve salvare, ma soprattutto c'è l'ex tecnico Cervinale dello scorso anno. Sant'Omaso secondo me non avrà problemi a salvarsi perché c'è giocatori importanti per la categoria, c'è uno dei migliori allenatori che c'è in circolazione. Per me sarà solo un onore e un piacere confrontarmi con un allenatore di un certo livello come Andrea, quindi andiamo a giocare la partita, vinca il migliore. Sono tutte difficili le partite, a prescindere dalla classifica. Domenica abbiamo la dimostrazione sulla nostra pelle. Distrarsi un attimo lo paghi Dazio alla prima distrazione. È un campionato assai equilibrato, io sto dicendo proprio a te dalla prima giornata che questo è un campionato diverso dal solito dove si può perdere punti contro chiunque. La dimostrazione è proprio il Sant'Agnello che perde in casa con noi e poi va a prendere un punto ad Eboli che non è una cosa da tutti. La rinascita Vico aveva perso in casa col Picciola, poi è venuto a prendere un punto a Cervinara dove finora era riuscita solo la battivagliese in 10 contro 11 tra l'altro. Quindi un campionato dove non c'è niente di scontato, bisogna giocare tutte le partite al massimo se si vuole portare punti a casa. Proprio il Vico ospita l'Ebolitana, può fermare la capolista? Io credo di no, perché l'Ebolitana a differenza del Cervinara di Domenica è una squadra che non concede quasi niente quindi diventa difficile per una squadra come il Vico fare punti contro l'Ebolitana. Credo che i valori sono troppo distanti, quindi vedo favorita l'Ebolitana. Invece il sorrento ospita la Palmese che forse ha l'ultima chance per inserirsi nel discorso di play-off. La Palmese ci ha abituato a risultati importanti, soprattutto fuori casa. È una squadra che non molla mai, è una squadra che ci crede, spesso vince in rimonta. Quindi è una squadra esperta, importante. Secondo me c'è bisogno del miglior sorrento per fare punti con la Palmese. L'altra squadra della provincia di Avellino, il Solofra, ha un impegno molto duro, anche perché ospita il San Vito Positano che è in piena corsa play-off, mentre il Solofra non può permettersi passi falsi, altrimenti viene risucchiata nei basi fondi della classifica. Questa è una partita che prevedo molto tattica, una partita scacchi, perché sono due allenatori che curano molto l'aspetto tattico sono due allenatori che non concedono molto all'avversario. Quindi Ciccio Messina prepara le partite in maniera meticolosa, Guarracino ancora di più, quindi prevedo una partita assai equilibrata e molto tattica. Un'ultima domanda ai tifosi del Cervinara, c'è stato un po' di maretta nel corso della settimana. Il mister del Cervinara cosa chiede in questo preciso momento ai tifosi, visto che è importante il momento? Io mi sono permesso di avere un colloquio con il rappresentante degli Ultras, perché credo che domenica sia successa una sciocchezza, nel vero senso della parola, perché questa è una squadra che ha sempre rispettato e ha sempre apprezzato i sacrifici che fanno i tifosi per noi. Quindi, chiarito questo aspetto qui, credo che tutti dobbiamo fare un passo indietro e capire che il Cervinara ha bisogno dei tifosi, i tifosi hanno bisogno del Cervinara, quindi come sempre, se è andato sempre per la stessa direzione, dobbiamo continuarlo a fare. Perché ci sono giocatori che a Cervinara sono venuti apposta per il pubblico, per la tifoseria, quindi immaginiamo un po' il rispetto che c'è verso questi ragazzi che sono veramente ingomiabili. Può succedere che magari il risultato a volte incide sull'umore di qualche giocatore. Domenica qualcuno che è scappato nello spogliatoio, è scappato per la vergogna della figuraccia che è stata fatta, non certo per mancare di rispetto ai tifosi. Quindi io chiedo a loro di continuare a seguirci, magari essere più critici, magari essere più freddi nei rapporti personali. Questo qui, voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, ma credo che debbano continuare a seguire il Cervinara, perché il Cervinara è dei tifosi. Da sempre è stato così, ero io ragazzino e il Cervinara è stato sempre dei tifosi. Non può finire oggi dove vediamo il Cervinara protagonista e almeno in questo momento il Cervinara occupa il punto più alto della sua storia, perché essere quarti in un campionato di eccellenza non si era mai verificato. Quindi bisogna apprezzare quello che sta facendo questa squadra, soprattutto questa società, perché mai come quest'anno il Presidente sta facendo salti mortali per essere protagonista. La gente deve capire e ci deve aiutare. Noi non possiamo prescindere dai nostri tifosi. Grazie a tutti.